e poi oggi oggi così si entra subito nel vivo è un giorno importante diciamo che era una settimana importante perché due giorni fa era il compleanno della squadra di calcio attualmente esistente più antica del mondo e stiamo parlando dello chef dello Sheffield Football Club che non sto a fare la storia perché di fatto ve l'abbiamo già già raccontata nella nella passata edizione diciamo che oggi è il giorno in cui è nato ufficialmente il calcio Sheffield Football Club fammi finire che è nato addirittura il 24 ottobre del 1857 esatto però in effetti succedeva che all'epoca il calcio veniva praticato nei licei o nelle high school come si diceva come si dice in Inghilterra o nei paesi anglosassoni perché anche in America si dice ugualmente e poi però con regole un po' diverse l'uno dall'altro e quando poi andavano nei college quindi all'università e si scontravano magari uno voleva giocare con determinate regole e uno con un'altra e quindi succedeva un po' di arrosti ecco e fra l'altro a quei tempi era Cambridge che la faceva un po' da padrona nel volere stabilire le sue regole Cambridge Rules e del resto loro erano Cambridge come università indubbiamente però non ci dimentichiamo che si sta parlando esattamente del 1863 esatto che specie a quell'epoca oggi è ancora più più grande come aria vasta però all'epoca la corona contava molto più di oggi e oggi conta il premier non conta Elisabetta insomma con tutto con tutto l'affetto per Elisabetta e ecco che Londra si vendica che Londra dice no no un attimino ci pensiamo noi eh allora il 26 ottobre del 1863 in una taverna in una che non mi ricordo c'è un nome particolare ma porca miseria non mi ricordo viene fondata la Football Association e vengono anche scritte a mano le cose le diciamo le norme le regole che da cui si inizia il giocatore ti vengo in soccorso io la traverna si chiamava Free Mason's Tower esatto e venne la proposta di formare una Football Association venne da Ebenezer Cobb Morley che fra l'altro di quei club che erano 11 o 12 non ce n'è rimasti più nessuno dal punto di vista però però è chiaro che da lì si cominciò e fra l'altro no anche perché era strano che fossero proprio i club di Londra a trovarsi perché in quell'epoca eh Londra non era così l'Inghilterra non era così londrocentrica soprattutto dal punto di vista economico e i club più forti erano più al nord e più a ovest nelle Midlands dove c'era le miniere quindi dove c'era tanto lavoro c'era produttività pensa a Sheffield piuttosto che a Birmingham insomma lì c'era veramente il cuore economico infatti il calcio è nato lì bene o male non ci dimentichiamo che all'epoca gli aerei praticamente non esistevano no anzi senza praticamente non esistevano e quindi poi c'era l'aspetto portuale di Liverpool di Manchester e di altre grandi città insomma eco industriali poi c'è da considerare anche una cosa curioso che la Football Association è l'unica che non ha il nome cioè l'aggettivo qualificativo della nazione perché siccome essendo nata per prima è la Football Association la Scozia è la Scottish Football Association ma non si dice English Football Association perché c'è English è Football Association siamo noi punto invece la Scottish Football Association ha dovuto dirlo per distinguersi come la FAW no Football Association of Wales oh Wales certo è uguale io intanto saluto Lorenzo Nigi che è arrivato c'è Maurizio che mi chiede Massimo ti ricordi Sheffield West Browich quando Sheffield ebbero 5 espulsi si lo abbiamo raccontato l'anno scorso ma vada su cosa che c'è vada sul sito vada sul sito che c'è la storia di quella partita la battaglia di Bramallene saluto anche fra Ivancioni e Martine che ci stanno seguendo in diretta sono onorato della presenza di entrambi nel circo di anglocalcio e poi ovviamente nell'International Football Board vale a dire all'interno della FIFA la voce diciamo la voce dell'Inghilterra è sempre è stata una voce predominante anche se gli inglesi molto autarchici la storia insomma della Football Association svela anche un particolare che molti sostenevano che gli inglesi per la loro arroganza non partecipavano ai campionati mondiali di calcio per il semplice motivo che si ritenevano superiori no non è così non hanno potuto partecipare ai mondiali del 30 34 e 38 per un motivo semplice perché non erano affiliati alla FIFA cioè c'erano poi però erano usciti come al solito per delle divergenze e quindi non essendo iscritti alla FIFA non potevano chiaramente partecipare ovviamente è molto semplice bene 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 poi a questo punto si chiude così chiudo la mia parentesi ricordando che ieri l'altro invece si fa a beneficio di Lorenzo Nici era il compleanno di Wayne Rooney che ha compiuto esattamente 32 anni Wayne Rooney di cui non occorre parlare moltissimo perché la sua storia la conoscano un po' tutti però in Inghilterra è una cosa che è tipica dei paesi britannici lo stesso trasportata anche negli Stati Uniti è un history man perché è un history man perché è il giocatore che ha segnato scusate dall'inizio della Premier League quindi dal 92-93 quando è nata la Premier League giocatore che ha segnato il maggior numero di reti per un singolo club in Premier League 183 con la maglia del Manchester United è il giocatore che ha realizzato il maggior numero di reti in assoluto nella storia del Manchester United con 253 fra tutte le competizioni è il giocatore che ha realizzato il maggior numero di reti nella storia della nazionale con 53 reti togliendo il primato a Bobby Charlton del Manchester United che ha raggiunto a quota 49 ed in più è un altro history man perché è il secondo giocatore nella storia della Premier League ad aver raggiunto e superato quota 200 reti attualmente è a 202 il primo è Scheer a 260 in teoria avendo 32 anni potrebbe giocare altri 4-5 anni 58 reti beh ci potrebbero anche fare direi a Lorenzo se giovasse in un club un po' più forte dell'Everton così ecco così lo faccia arrabbiare così lo faccia arrabbiare povero Lorenzo che è andato invece a ricercare il video della battaglia dello speciale sulla battaglia Braban Lane Battle e l'ha postato qui di Maurizio Maltabeghi se lo può andare a vedere allora celebrando la Football Association noi lo facciamo oltre al ricordo che ha fatto Giovanni partendo e occupandoci della base del calcio inglese ovviamente la Football Association con la Premier League poi è nata anche la League quindi la Football League Football League nacque poco dopo nel 1888 e quindi diciamo sovrintende ma non ha la gestione né della Premier League né dei campionati però alla gestione della Football Association Cup e dell'FA Trophy dell'FA Base dell'FA Charity dell'FA tutto quello che è e poi ovviamente comunque è un organo che sarebbero che abbiamo Grazie a tutti